Salvanelli, ma cosa trovano i mille studenti che vengono quest'anno al parco? Ve lo dico subito coinvolgendo i responsabili dei tre laboratori. Andiamo con il museo degli usi e costumi di San Michele che presenta un mestiere particolare. Un mestiere che ha tanti mestieri in uno, gli ambulanti, ci diranno loro che cosa propongono quest'anno. Dopo vedremo anche gli altri contenuti e le altre novità del parco. Prego, Antonella Mott e Daniela Finardi. Innanzitutto io vorrei dare un augurio al parco dei mestieri. È arrivato alla scuola media, no Diego? Perché se sono 11 anni diciamo che è il primo anno di scuola media. E l'abbiamo accompagnato in tutti questi anni. Io ricordo delle prime battute di ciò che è stato fatto con Maurizio Nichetti che sarebbe veramente contento di vedere tanti salvanelli in carne ed ossa perché li abbiamo disegnati salvanelli, abbiamo visto dei pupi animati e questa volta sono arrivati delle persone. Quindi mi sembra una bellissima festa. Per quanto riguarda il Museo degli Usi e Costumi della gente trentina devo dire che è un momento anche per noi sempre di grande fermento perché cominciamo con anticipo a pensare quale può essere il tema e come può essere interpretato questo tema in un parco. Per quello che riguarda poi l'attività di quest'anno passo la parola a Daniela Finardi, la mia collega dei servizi educativi che può nel dettaglio spiegare che cosa succederà qui nel corso di queste giornate. Grazie Antonella. Noi ogni anno cerchiamo di portare qualcosa di diverso, abbiamo portato 11 mestieri diversi. Quest'anno come ha detto giustamente abbiamo un mestiere che ne comprende tanti, no Diego? Abbiamo il mestiere dell'ambulante, il cosiddetto ambulantato povero che c'era una volta, l'ambulantato di mestiere e che oggi presenta appunto varie piccole tappe. Attraverso queste tappe facciamo conoscere ai bambini questi lavori che facevano un tempo e l'abbiamo chiamato la bottega sulle spalle proprio perché si trattava di portarsi dietro tutta una serie di strumentazione e di dover lavorare passando di casa in casa e di paese in paese. Partiamo dai mestieri più poveri come l'arrottino, lo spazzacamino ma arriviamo a parlare dei perteganti del tesino che invece hanno costruito un impero su questo tipo di mestiere ambulante e quindi gli facciamo anche capire che erano dei mestieri che hanno portato a degli sviluppi molto importanti e che ci hanno portato anche nel mondo come Trentini insomma. E poi ovviamente facciamo una prima parte teorica e come sempre noi abbiniamo una parte pratica dove costruiscono un piccolo libretto che gli servirà a ricordare nell'inserire giocando con gli oggetti che hanno visto nell'esposizione e diciamo nel ricordare questi mestieri ambulanti e nel portarseli a casa sulle loro spalle, nella loro bottega sulle spalle. Grazie, un caro saluto via radio a Giovanni Kezic che anche quest'anno insieme a Maurizio Nicchetti sotto lo pseudonimo di Niketz ha firmato i testi di una nuova storia del Salvanel che Vita Trentina diffonde in questo numero speciale con i suoi oltre mille copie in più. C'è anche il Giro dell'Oca del Salvanel, un nuovo gioco che si aggiunge agli altri disegnato da Andrea Fokes che è l'altro grande assente di oggi per un problema al ginocchio Fokes riceve anche lui i nostri saluti il padre del Salvanel non ha potuto venire ma vi ha regalato questo gioco dell'Oca. Ciao! Ciao! Buon rientro! 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 Grazie a tutti